Bentornati su MyFootballJersey. Vi piace la maglia? Questa è la seconda maglia dell'Inter per la stagione appena iniziata in edizione Player! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info La maglia è veramente molto bella, perfetta in tutti i particolari con un materiale, quello di Nike, veramente stupendo. Il costo lo vedete qui sopra, molto interessante, decidete voi cosa fare, ma veramente un'occasione. Se volete ordinare la maglia trovate qua sotto in descrizione tutti i riferimenti. Andate a vedere perché il sito prepara per voi splendide offerte. Ora vi lascio la parte finale, prima però mi raccomando iscrivetevi al canale, a voi non costa nulla, ma ci permette di farvi vedere quotidianamente nuovi video. Grazie per tutto, arrivederci. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia Large della versione Player. Grozie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.